La linea comune del governo è rafforzare ancora di più la sicurezza dei cittadini italiani, ponendo al centro del dibattito europeo il fatto che non possiamo essere lasciati soli. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini continua a ribadire la sua posizione sulla questione migranti e sul caso della nave Diciotti, con a bordo 67 persone salvate dal rimorchiatore italiano Vostalassa, afferma che al momento non c'è un porto per la nave e dice non darò autorizzazione allo sbarco fino a che non avrò garanzia che i delinquenti finiscano in galera. I migranti avevano creato una situazione di pericolo per l'equipaggio del Vostalassa dopo aver capito che stavano per essere riconsegnati alle motovedette libiche, ma intanto la Diciotti sarebbe diretta verso il porto di Trapani. Per Salvini la politica della fermezza paga. Da quando sono ministro dell'Interno sono sbarcati 21.000 immigrati in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Non mi ho contento, voglio fare ancora meglio. Su questo punto ribatte il deputato del PD Michele Ansaldi che in un posto pubblicato su Facebook scrive che le menzogne di Salvini sui migranti vengono sbugiardate dallo stesso sito ufficiale del suo ministero. Non è vero come dice che a giugno ci sono stati 21.000 sbarchi in meno grazie a lui. Gli sbarchi sono crollati all'80% già da 11 mesi grazie al lavoro del ministro Minniti e del governo Gentiloni. Basta vedere i grafici e le tabelle ufficiali. La lineatura del Viminale non smette di agitare il governo. Sul no all'attracco delle navi nei porti italiani si aprono le distinguo di peso. Luigi Di Maio ha affermato che non è immaginabile che chiudiamo i porti a una nave italiana pur assicurando che con Salvini condividiamo le stesse perplessità. E il ministro della difesa Elisabetta Trenta in un'intervista ad avvenire ha dichiarato che il Mediterraneo è sempre stato un mare aperto e continuerà ad esserlo l'apertura e la sua ricchezza.